Buongiorno e ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Vediamo quelle che sono le principali notizie di oggi, sabato 17 gennaio 2015. Come sempre partiamo dai quotidiani locali, dal quotidiano del Molise. Gamma aggiunge un posto a tavola, c'è AIA alla manifestazione di interesse di Aria Food, si aggiunge un altro marchio DOC, segnali positivi per la ripresa dell'azienda, l'esecutivo regionale valuterà la proposta più appetitosa. Taglio in alto, i napoletani vedono pizzone come un paradiso fiscale, residenze fittizie, 11 denunce dei carabinieri. Campo basso, allarme e furti, i cittadini collaborano e i risultati iniziano a vedersi. Isernia ha 12 anni e marina la scuola, la colpa è solo dei genitori. Isernia trasloco sede unimo, il Brasello riapre il dialogo correttore. Palazzo moffa, il mitomane colpisce ancora, allarme e bomba in consiglio. Intesa Carsic regione, torna il sereno. Post sisma, ciocca, ricostruzione più veloce con altri due milioni. Lo sport, eccellenza, si giocano due anticipi, la capolista impegnata, sesto campano. Calcio a 5 in serie B e il giorno del derby, l'Isernia ospita il Venafro. Atletica, mancate reperibilità, l'alli convocato dalla procura antidoping. L'evento giornata dello sport della regione Molise, giovedì la seconda edizione. Passiamo al quotidiano online, futuro Molise. Isernia, Brasello, leader maximo, prende i meriti del lavoro altrui sul riconoscimento dell'area di crisi ed esige la cabina di regia delle assunzioni dell'azienda in rilancio. I consigli delle Camere di Commercio di Campobasso e di Isernia hanno deliberato l'accoppamento dei due enti camerali, la RSU dell'ente camerale Isernino, in allarme per la probabile chiusura. Morte del logotenente Sabelli, il PM Gianmarota ha aperto un procedimento contro ignoti per istigazione al suicidio, atto necessario per disporre ogni accertamento utile sulla tragica fine del carabiniere. Passiamo adesso a primo piano. Gam a sorpresa spunta Aia e l'accordo con Volpe Pasini va a gambe all'aria. Una mail della holding veronesi inviata a frattura spariglia le carte e Aria Food reagisce, vorrà dire che gli operai li faranno lavorare loro. A rischio il rilancio della filiera, i veneti vogliono solo l'incubatoio. Dal consiglio intanto ok al concordato. Taglio in alto, Campobasso, terrorismo, il questore Pagano rassicura, controlli intensificati, nessun allarme. Rifondazione comunista, Ferrero affonda, Renzi e Punda su Landini per il Quirinale. La svolta spending review, nasce la Camera di Commercio unica del Molise. Tra poco morirete tutti. Telefonata anonima al gruppo di rialzati Molise. Verona in titola ai giardini di Piazza Vittorio Veneto a Don Stefano Gorzegno. Le querele tra l'istituto di Toro e l'ASNEM, down e malati gravi, restano alla fisiomedica. Il tribunale di Campobasso gli ha riconosciuto il diritto alla salute. Il 12 gennaio scorso si è chiusa una vicenda lunga 20 anni. Venafro, forse una casa per Paola e Pasquale. Moglie e marito vivono in baracca da 12 mesi. Lunedì vertice in municipio. Termoli va in pronto soccorso. Due giorni dopo muore. Si indaga sul decesso di un 31enne. L'uomo era agli arresti domiciliari trovato priva di vita in casa. Gialla sulla fine di un 43enne. Ieri mattina doveva comparire davanti al giudice. È successo a Isernia. E ci spostiamo. Parliamo adesso di sport. Serie D per Rucci. Dal derby uno spot per l'intero movimento molisano. Calcio a 5. La sfida tra Isernia e Venafro. Infiamma il turno. La win ADV va a Manfredonia. Passiamo al quotidiano online in forma molise. Partiamo dall'attualità. Riccia ha successo per la prima sessione di Cineforum. La Fly Sport Inail Molise ospita il Don Orione Roma. Laia interessata la GAM CGL. Perché non siamo stati informati? Pilone Cancellario. Chiesta seduta monotematica per conoscere gli interventi pubblici della regione sulla città. Dimissioni del consigliere Cola Giovanni. Ufficiale l'entrata in provincia di Giovanni Varra. Salterete tutti in aria. Morirete tutti. Telefonata anonima in consiglio regionale. Bando del Ministero della Difesa per il reclutamento di 33 ufficiali in servizio permanente. Monitoraggio Excelsior. Continuano le difficoltà per le imprese molisane. RSU. Camera di commercio Isernia. l'unificazione a danno del territorio alto molisano. Passiamo adesso ai quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Hanno detto vi rapiamo per soldi. Il racconto di Greta e Vanessa. Blitz in Europa. Presi due giaisti dal Belgio in fuga verso l'Italia. Terrorismo. Le ragazze liberate in Siria. Bendate e chiuse in una stanza. Il ministro Gentiloni. Il riscatto. Solo le azioni. taglio in alto per il caso Schwarzer. Kosner squalificata. Vado fino in fondo. Taglio a destra. Una vita democratica per l'Islam. Le idee. Il sistema America è in trappola. La statale chiude per non farsi occupare. Allarme no expose. Contri sociali. Perfetto il rettore. Dicono stop di tre giorni. Passiamo ad avvenire. La grande caccia. I giaisti europei. 20 cellule in Belgio pronti a rapire e decapitare. Libere ma nella bufera. Il fatto. Decine di arresti. Due fermati al confine italiano. Milano in Francia. Preso il quarto uomo degli attentati. Rabbia per le vignette. Chiese colpite in Niger. Taglio in alto. Milano. Tensioni e minacce per il convegno di oggi sulla famiglia. Prospettive economiche. Banca Italia. In crescita nel 2015. Solo lo 0,4%. In Svizzera ancora caos. Cambi e borsa. Renzi. Il nome. L'ultimo giorno. Il PD. Non sbagli. La fotonotizia. La famiglia è un tesoro. La corruzione impoverisce. Nelle Filippine il Papa mette in guardia dai rischi del relativismo. Passiamo alla gazzetta del mezzogiorno. Terrorismo. Risale la paura. Scontro sul riscatto per le cooperanti in Siria. Gentiloni. Soltanto illazioni. Il Papa la corruzione toglie risorse ai poveri. Bagno di folla a Manila. Taglio in alto. Estetisti a domicilio. Scoppia la guerra. Ci rubano il lavoro con la concorrenza sleale. La rivolta contro il porta a porta delle lavoratrici in nero. Scompare il simbolo di Selle. In FI tutto torna in alto mare. Lista unica dei vendoliani con Stefano. A Bari capolista sarà l'ex assessore Fiore. Tutela del paesaggio. La Puglia arriva prima. Il piano firmato a Roma al Ministero Franceschini. Bravi. Siete un esempio. Banca Italia. Taglia l'ottimismo. Il PIL fermo anche nel 2015. Ad Atene è corsa a ritirare i contanti delle banche. Renzi sul Quirinale. Sarà fuori da giochi. Chi ci tira fuori? Bari calcio. Nicola. Oggi comincia un nuovo campionato. Campionato. Doping. Complice di Schwarzscher. Squalifica per la Kostner. Casomarò. India contro l'Europa. Non faccia. Pressing. Bene, passiamo allo sport con la gazzetta dello sport. Incontro Berlusconi-Sacchia-Milanello. Torna a casa Arrigo. Invitato a pranzo con Mistero. Proposto un ruolo nello staff del Milan. L'ex stavolta è tentato. Ci dormo su una notte. Ma il vertice rosso-nero minimizza. Mercato sbarca Suso. Pressing su Sichera. Taglio in alto. Palasio. Il gol mancante. C'è l'assist di Recoba. Totti è destro. Garzia insegue. Anche i dubbi. Eto. Chi si rivede? Samp. Dammi subito l'Inter. Accelerata Juve-Zazza. Guai-Vidal. Neve azzurra. Elena Franchini. Regina a cortina dopo nove anni e sei operazioni mondiali snowboard oro e bronzo. Bene, con lo sport termina la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Il meteo è offerto da Iscriviti alla sezione primavera bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Previsioni del tempo per sabato 17 gennaio. L'alta pressione si indebolisce favorendo l'arrivo di aria più umida, Atlantica. Al mattino ancora prevalenza di bel tempo, salvo un po' di variabilità sulla Puglia e il basso Adriatico. Discreto anche nel pomeriggio ma con nuvolosità in aumento. Ventilazione in rinforzo dai quadranti sud-occidentali con mari tendenti a molto mossi. Vediamo le temperature. Campobasso minima 7, massima 12 gradi. Isernia minima 6, massima 14 gradi. Termoli minima 11, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da Iscriviti alla sezione primavera bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Iscriviti al nostro canale.